Da piccola stavo sempre con un pallone a giocare, dopo ho iniziato a scuola e questa voglia è solo cresciuta ancora di più. E lì ho iniziato a giocare i campionati, prima giocavo in Brasile, dopo mi è venuta la voglia di fare un'esperienza fuori dal mio paese, dove è stata a Sinai, la mia prima esperienza qua in Italia e quest'anno giocherò nella Lazio. Gioco anche nella nazionale brasiliana e gioco il calcio a cinque a tredici anni. Non è facile stare lontano da casa, però è un'esperienza incredibile che fa crescere come persone, come giocatrici. Non posso arrivare in campo e oggi non ho voglia di giocare, perché lo so che c'è persone che mi guardano e che sperano di avere una bella presentazione, ma mi piace questo. Io sono laureata in scienze motori e voglio lavorare con lo sport, non lo so con chi, però con lo sport. Grazie a tutti.